Come si fa a vivere fino a 98 anni? Si tira avanti, come si può. Però prima mi ha detto si vive la giornata. Si vive la giornata, si. Come si fa? Nella paura che succeda qualcosa un giorno dopo l'altro. Ogni giorno è diverso allora. Perché quando si ha tanti anni può capitare che in poco tempo si scaravoglie tutto. Per cui ogni giorno è l'ultimo diciamo, e invece poi c'è ancora un'altra. Speriamo. Si ma c'è perché se è arrivato a 98 ne ha passati di anni, per cui il trucco vuole vivere la giornata, giusto? Si. Cioè ogni giorno può essere? Delocativo. Per cui oggi, ieri com'è andata? Bene. Baritino, brioche? Bene, si. Riposino? Riposino. Riposino. E domani? Scriviamo bene. Uguale. Bene, grazie per il suo il 98. Qual è il compleanno? Il compleanno? Sì. Il compleanno è il 30 settembre. Settembre? È della Vergine allora, 20 settembre. Sì, della Vergine. Allora ci vediamo per il compleanno. Dai. Va bene. Ciao a voi. Ciao. Anna, io voto. Ok?